Allora aspetta, io ringrazio con a Terni il signor Rinaldo Giovanotto di 78 anni che ci porta una bella tolla di olio extravergine prodotto, non made in Italy, made in Umbria, che arriva da vicino a Strangone, tanta roba alla faccia di quelli che vanno a comprare robe che arrivano dall'altra parte del mondo. Compriamo italiano, mangiamo italiano, beviamo italiano, consumiamo italiano. Assaggio. Assaggio, non tutti e 5 litri subito ma assaggio. Va bene, grazie. Ragazzi non blocchiamo il traffico. Prego signora. Buongiorno. 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 Grazie. Buongiorno. Sei grandi Salvini, grandi. No, normale. Grandi, grandi sempre. Solo normale, dai. Te ne lascio qualcuno. Grazie caro. Ciao, buona giornata. Buona fortuna. Grazie caro. Salvini. Salvini? Salvini? Sì. 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 E come sta qui? Perché fa il giro. Io non si era stato qua. Ah, ecco. E questo è un altro caffè, verano? Eh? Sì. Ciao. Buongiorno, signora, buon caffè. Buon tutto. Ah, pardon. Scusa, scusa, non voglio disturbare. Buongiorno. È un piacere. Guarda, sto sole a termine, io a Milano non ce l'ho. Eh, siamo tutti. Come va? Grazie. Va bene, si vince, si vince. Buon contagio. Oh, sto spogliando per cominciare la dieta. Eh, no, 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 no. Lo dovevo fare. Noi stiamo bene così. Grasso e bello. Qual è il suo bello? Omo di panza. Tutta sostanza. Tutta sostanza. Ciao, buon'annata. Vivo. C'è pericolo. Vivo. Oh, salditi. Svelo, buono. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. No, 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 no. Buona fortuna. Bene, bene, bene. Ciao. Grazie. Questa sera mangio castagne buone. Un chilo, un chilo, un chilo. Però serve la quale fa la foto? No. Buongiorno. 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 Io sono eternana. grazie buon lavoro buona giornata prograsso in televisione adesso oggi digiuno quindi oggi